vediamo in questo tutorial di oggi cari utenti di youtube come si fa il nodo alla gravata ecco qua questa è la metodologia da adottare per fare correttamente il nodo alla gravata perfetto questo praticamente è il risultato che si è venuto a creare come potete vedere la gravata è venuta il nodo anche ovviamente si vede si vede è riuscito perfettamente leghiamo per cortesia la gravata e rifacciamo un'altra volta a vedere come si fa un po più lentamente così almeno facciamo in modo che il risultato venga garantito a notare in questo modo passarla davanti poi successivamente passare dietro e legarla a notarla e metterla la parte bassa ecco qua questo è il relativo risultato che è bene perfetto vi ringrazio per l'ascolto ringrazio chiaramente anche la persona qui in questione che ha voluto fare il nodo alla gravata iscrivetevi e al prossimo video